Mauri cosa ci fai qua? Ci sono andato a fare benzina, poi ho preso raslici, cevacci, pliescavizza, carne, comunque in Slovenia però l'ho lasciata in macchina, era una bella giornata calda e è andata a marcia la benzina è ancora buona però Hai visto mezza partita? No, ho visto il camp di Teddy Com'è stato? Molto bene Molto bene, grazie Qual era Teddy?